Blizza, antidroga, in provincia di Caltanissette, i carabinieri hanno arrestato dieci persone per associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, mentre altre due sono ricercate. L'operazione coordinata dalla DDA Nissena ha sgominato l'organizzazione criminale con base a Riesi. Complessivamente sono dodici le misure, dieci in carcere e due agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il nucleo investigativo di Caltanissette ha dato esecuzione al provvedimento del GIP di Caltanissette L'indagine, che è scaturita dall'arresto in flagranza di reato di uno dei presunti capi il 22 ottobre del 2021 da parte di militari della stazione di Resi, trovato in possesso di 4 kg di marijuana, ha documentato l'esistenza di un'associazione di trafficanti di marijuana, cocaina e ascisce. Nel corso dell'attività condotta dai carabinieri sino all'aprile del 2022 sono state ricostruite tutte le fasi dall'approvvigionamento dello stupefacente nella piazza di Gela allo smercio al dettaglio nel centro di Riesi. Il presunto capo è un 35enne con precedenti specifici, a seguito dell'arresto avrebbe continuato a dare le direttive ai complici.